Il presidente della regione Enrico Rossi ha firmato lo stato di emergenza regionale in Toscana dopo i nubi fragili che nel weekend hanno provocato la morte di una persona, danni ingentissimi a strade, abitazioni, aziende e coltivazioni agricole, soprattutto nell'Aretino, nell'Empolese e sul Monte Amiata. Il presidente Rossi ha già chiesto al governo anche il riconoscimento dell'emergenza nazionale e della calamità naturale al fine di ottenere fondi per i risarcimento. La quantificazione è già iniziata e anche per questo scopo l'assessore regionale Vittorio Bugli ha effettuato un sopralluogo nelle zone più colpite della Valdelsa, mentre gli assessori Federica Fratoni e Vincenzo Ceccarelli si sono recati in quelle in provincia di Arezzo, individuando in questo caso una priorità. Sicuramente la necessità di intervenire con una revisione di quelle che sono le opere a difesa del reticolo idraulico secondario, in particolare in questa zona i corsi del Sellina, Valtina, abbiamo visto che c'è bisogno di un ripensamento insieme al Comune, ai consorsi, per rivedere le opere da realizzare, soprattutto alla luce anche di questi nuovi fatti. Interventi che dovranno comprendere, secondo Fratoni, anche l'ammodernamento degli impianti fognari. I sopralluoghi sono stati anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che fanno parte della macchina della protezione civile. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutta la macchina della protezione civile che si è mossa prontamente e che probabilmente ha anche attenuato quelli che potevano essere danni ulteriori. Rimane il fatto che ora dobbiamo guardare avanti e pensare a creare tutte le condizioni perché pur in presenza di manifestazioni di questa entità danni di questo tipo possano essere quantomeno evitati o attenuati. Grazie a tutti.